Da questa mattina un'ambulanza speciale sterile dell'Humanitas di Salerno è partita la volta della Basilicata a disposizione del 118 regionale per fronteggiare eventuali richieste di soccorso dopo l'allarme scattato per il nuovo virus misterioso dalla Cina. Destinazione potenza per il mezzo di soccorso dell'Humanitas, uno dei due a disposizione dell'Associazione di Via Mauri, diretta da Roberto Schiavone, che già da un anno è andato a potenziare il parco mezzi. Un'ambulanza sterile è attrezzata per prevenire il contagio del trasporto del paziente in ospedale grazie all'ausilio di un incubatore a misura d'uomo che non permette alcun contatto e contagio con l'esterno. L'Humanitas di Salerno si è dichiarata a disposizione anche per altri ospedali che ne avessero necessità. Diciamo che noi abbiamo già predisposto questo servizio da oltre un anno perché c'è un'evoluzione in tutte le attività sanitarie e anche nel campo della protezione civile che io non continuo ormai di finirla e di dirla alla gente che ormai non si capisce più niente. E allora ecco la predisposizione di due mezzi speciali ad alto contenimento che sono qui a disposizione a Salerno. Uno l'abbiamo andata stamattina in Basilicata, pronta a intervenire in tutta la Basilicata, e l'altro a Sal Salerno per tutta la Campania con un equipaggio composto da 3-4 operatori muniti di tutte le attrezzature idonee per evitare qualsiasi tipo di infezione. Noi notiamo già dalla barella che è completamente coperta quindi isola completamente il paziente. Sì, c'è poi un sistema di ventilazione interna che distrugge anche tutti i microbi che si possono trovare nell'ambulante. Poi c'è un altro sistema all'interno dell'ambulanza che purifica anche l'esterno dell'attrezzatura. Questa è un'attrezzatura speciale, viene dall'Israele, sono loro i più bravi, devo dire, nel campo sanitario. Queste attrezzature sono tutte israeliane e ha un costo abbastanza elevato, ma salvare la vita delle persone non apprezzo. In giro di quest'anno queste ambulanze sono state già utilizzate? No, attualmente non sono state mai utilizzate perché molte volte non si rendono conto del che cosa significa pure trasferire un paziente con una meningite, è importante trasferirlo in sicurezza, ma purtroppo la rete delle volte non funziona al 100% e ne viene fuori che poi ci sono altre persone che si infettano. In queste ultime ore diversi centri sanitari, ospedali della regione Campania, ma non solo, si stanno attivando per fronteggiare un'eventuale emergenza. Al Monaldi sono già disponibili ad esempio delle stanze? Sì, al Monaldi è come un punto di riferimento regionale, ci sono due stanze pronte per eventuali pazienti che devono essere portati lì. Noi ci siamo, ci siamo da 35 anni, siamo qui pronti a disposizione della gente. Anche a Ruggi sono operative delle stanze per isolare persone infette? Non lo so, le dico la verità, non lo so. Noi siamo in contatto con il 118 regionale e quello provinciale. Purtroppo a Ruggi ultimamente diventa difficile parlare con qualsiasi persona, è un attimo difficile parlare con i Ruggi.